Ciao, sono Sergio Motta e quest'anno per l'Università Popolare di Torino otterrò il corso dal ritratto alla fotografia di cerimonia. È un corso destinato a chi abbia già delle esperienze fotografiche che metterà in risalto le difficoltà e le caratteristiche di ognuno di questi generi di fotografia. Il reportage, la fotografia sportiva, appunto il ritratto, la fotografia di cerimonia e altri. Di ogni tema vedremo le caratteristiche, le attrezzature più adatte e anche qualche cenno di legislazione, il diritto all'immagine piuttosto che i divieti dove la legge non consenta di effettuare gli scatti. Il corso si terrà sia in presenza al San Giuseppe di via San Francesco da Paola 23, il Sanjip per i torinesi e in webinar in diretta. Sarà il lunedì dalle 17 alle 18 e 30. Spero di vedervi numerosi e a presto.